Ciao amiche e ciao amici, quali sono i segnali di disponibilità maschile espressi a livello non verbale? Beh, ve ne sono di diverso tipo. Intanto uno è quello, diciamo, di manifestare un'attrazione di natura sessuale nei confronti di una donna. Quindi tendono, quando succede questo, a avvicinare le mani, diciamo, alla zona erotica fondamentale che può essere, può avvenire infilando le mani in tasca oppure infilando i pollici all'interno della cintura. Infilare il pollice all'interno della cintura è come se ti indicasse, diciamo, la zona che vuole evidenziare. Quindi è un modo per capire che c'è un coinvolgimento soprattutto di natura erotica. Se invece, quando ti parla, tende a maggiormente, diciamo, a manifestare dei toccamenti in questa zona, nella zona, mentre ti parla, ad esempio, fra movimenti di questo genere, la carezza sul collo, che è una zona, comunque una zona erogena secondaria, manifesta nei tuoi confronti un interesse, ma prevalentemente un interesse di natura affettiva o sentimentale, soprattutto se questo avviene utilizzando la mano sinistra. Anche questa zona qua, l'accarezzamento, è sempre una manifestazione affettiva o sentimentale. Altri segnali di interessi, che sono un po', diciamo, misti tra uomo e donna, sono l'apertura nei tuoi confronti e la chiusura rispetto ad altri, quindi anche in questo caso voltare il busto nei tuoi confronti, puntare il piede verso di te e chiudersi ad altri, quasi come a proteggerti in modo tale da averti lui, da entrare in contatto profondo con te e chiudere a te la possibilità di interagire con altri, ma chiuderla anche a se stesso di fondo. Poi appunto tutti i gesti di rispecchiamento, quindi duplicare il tuo comportamento, puoi notare un allineamento alla tua respirazione, alla tua gestualità, sono segnali che indicano che c'è da parte del maschio un coinvolgimento, una disponibilità. Sta a te poi essere in grado di gestire, di pilotare questa disponibilità per coinvolgerlo, per sedurlo. Quindi lui è abboccato al lamo, adesso tu devi mettere, diciamo, dei vincoli, delle condizioni per non rendergli la strada completamente facile, in modo tale che, partendo dal potenziale che tu hai acquisito, mettendo, iniziando a mettere qualche vincolo, qualche piccola condizione, piano piano puoi far crescere il potenziale, far crescere il coinvolgimento e sempre di più, diciamo, averlo, farli innamorare fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, anche tu avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!